Ben trovati telespettatori di Cilento Channel e benvenuti al primo appuntamento dedicato alla rubrica nutrizione e benessere, primo appuntamento del 2020, sempre in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che oggi ci parlerà dei consigli per quanto riguarda l'alimentazione dopo le festività natalizie. Allora, come tornare a regime, dottore? Sì, allora, questo gennaio, appunto dopo le festività natalizie, è un po' il periodo dei buoni propositi dove tutti cerchiamo un po' di recuperare dalle buffate dei pranzi e delle cene natalizie. In effetti in questo periodo, anche breve, però si possono arrivare a prendere fino anche a 5 kg, quindi è d'obbligo ritornare a mettersi in forma e a seguire un'alimentazione più equilibrata. Partiamo da alcuni punti fondamentali. Il primo, ovviamente, è che quando si vuole perdere qualche chilo ci sono tanti protocolli dietetici, però, come già sapevamo, ma è stato ulteriormente, diciamo, confermato da una recente ricerca americana, il miglior protocollo dietetico è sicuramente la dieta mediterranea. Questo perché associa la perdita di peso alla conservazione di un ottimo stato di salute, cosa che non avviene sempre con altri protocolli dietetici che magari assicurano anche una perdita di peso anche discreta, però, non essendo equilibrato, c'è la ragionevole certezza di ritornare a prendere quei chili persi, se neanche con qualcuno in più. Un altro punto fondamentale è quello anche di evitare il digiuno, ovvero dopo il periodo delle abbuffate si può pensare che sia ragionevole fare un periodo di digiuno. In realtà non è così perché alternare questo periodo di abbuffate a quello al digiuno invece induce l'organismo in una sorta di blocco del metabolismo in cui poi non riusciamo quindi a perdere peso, oltre che ovviamente anche allo stress di dover non mangiare. Quello che invece possiamo fare è quello di, consiglio, di seguire ogni tanto una giornata del cosiddetto digiuno consapevole, cioè fare di tanto in tanto una giornata in cui consumiamo solo dei vegetali, quindi possono essere delle verdure crude, delle verdure cotte, la frutta sotto forma di estratto o di frullato, oppure dei semi oleosi, della frutta secca. Questo lo possiamo fare ogni tanto durante la settimana, oppure nel giorno dopo una giornata particolarmente eccessiva dal punto di vista dei vizi alimentari. La terza cosa è ovviamente l'idratazione, quindi dobbiamo assicurarci di avere una corretta idratazione bevendo perlomeno due litri di acqua al giorno, quindi un'acqua preferibilmente naturale e ci possiamo aiutare anche con delle tisane depurative, disintossicanti, quindi possono essere delle tisane al finocchio, alla betulla, oppure al limone, allo zenzero. L'ultima cosa è ovviamente l'attività fisica. Da gennaio a giugno abbiamo tempo per poterci anche rimettere in forma e quindi praticare dell'attività fisica, aerobica, da soli, quindi all'aria aperta, oppure per iscriversi in palestra. Per quanto tempo, dottore, bisogna seguire una dieta equilibrata del genere? Allora, in linea generale dobbiamo sempre comunque mantenere un'alimentazione equilibrata per conservare comunque un corretto stato di salute. Nello specifico, ovviamente, a seconda di quanti chili dobbiamo perdere, a seconda dello stile alimentare che decidiamo di seguire, diciamo una perdita di peso che sia comunque equilibrata, corretta, nell'arco di un mese ci deve portare a perdere 3-4 chili. Però è importante sempre che quando decidiamo di perdere peso, dobbiamo sempre affidarci comunque a dei professionisti del settore per essere tenuti sotto controllo. Grazie dei preziosi consigli, grazie anche ai nostri telespettatori dell'attenzione. La rubrica nutrizione e benessere torna come di consueto la prossima settimana.